Vi presento i nostri ospiti, Domenico Ioppolo, Chief Operating Officer, Campus Salone dello Studente. Buonasera, grazie mille Ioppolo. E alla mia destra il professor Pietro Lucisano, ordinario e coordinatore dell'area di pedagogia e scienza dell'educazione, della formazione della Facoltà di Medicina e Psicologia all'Università Sapienza di Roma, ben arrivato professore. Da 25 anni classe editori e Campus Oriente cerca di aiutare i ragazzi nell'età più difficile, quella della maturità, di capire cosa fare nella vita e cosa fare da grandi. I ragazzi al 90% dichiarano un atteggiamento di impegno. Per il successo nella vita le cose più rilevanti sono l'impegno nelle cose che si fanno, la capacità di adattarsi alle situazioni. Il profilo costruttivo prende quasi il 90% delle scelte dei ragazzi con un'adesione molto forte. I giovani arrivano con aspettative grandi, vengono delusi. Man mano che crescono forse la scommessa per tutti noi è fare in modo che non restino delusi e riescano a costruire quello che desiderano. I valori sono positivi, puoi vedere le persone, sono i Mandela, la Montalcini, cioè sono persone valori alti peraltro. Sono valori molto alti. Poi man mano si insinua il tarlo della raccomandazione, del fatti fatti tuoi, del cerca di avere più successo degli altri. In fondo a 17-18 anni maturano al meglio le capacità logiche e quindi l'idea che hanno i ragazzi è di una razionalità che comprende l'eticità, che comprende anche la morale. Quindi se la scuola addrizza la schiena ai ragazzi fino a una certa età e poi c'è un mondo che li vuole piegare per forza, noi dovremmo sostenere la scuola e sostenere i ragazzi per costruire un mondo che è un po' meglio di quello in cui stiamo. Io se potessi dire in una parola la sintesi di questa ricerca, manca la moda. C'ha ragione lui. La moda c'era. La mia generazione aveva delle mode. Aveva delle mode nei personaggi, negli ideali, belli o brutti che fossero, oggi questo non c'è. Le nuove tecnologie probabilmente modificano anche la concezione di spazio e di tempo, la concezione di storia e via. Prego. Sono una ragazza albanese, venuta in Italia nel 1997 dopo la guerra civile nel mio paese. Per noi l'esempio era studiare. Cioè per noi l'esempio era chi e cosa voglio fare. Ho scritto un articolo che diceva che se per cambiare la scuola una volta tanto si studiasse, intendendo studiassero quelli che cambiano la scuola, bisognerebbe imparare a vivere bene in una società di diversi. Non tollerare i diversi, perché la tolleranza non è rispetto. Rispettare i diversi, pensate che è bello di poter parlare con persone che hanno modelli, aspirazioni di vita completamente diverse e completamente nuove. Grazie a tutti.